Oh 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 Eh Già iniziamo bene Raga Abbiamo iniziato bene Jessica What? Il monstro Oh 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 Ma che? Ma che cazzo? No 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 Ma come? No No Jessica Ok Stai venendo a scuola Di nuovo No 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 Allora Attentare Lo Attentare 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 Ah Attentare Ma che è? Ma che è? Eh, pure io Di verità, pure io ho paura Ma... Che ragione? Cosa è? Tutututututututututututu Niente, voglio andare Ovvio che no Mi scusi Blake! Signorina, Jessica Ah Jessica Oh Dio, sì! Oh mamma! Che cazzo? Mi scusi? No, 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 no Pum! No, sei insincorabile Pum! No, sei insincorabile No, per favore, non mi parmi del male No, devo correre Corri via corri via! i ragazzi devo andare! di qua! via! via di qui! via di qui! è più chiudere! io porto la chiave per... si scegliere! ehm... chiudo! chiude la chiave! fanno qui! va di qua! no non mi venite dietro! non mi venite dietro! non mi venite dietro! no per favore! per favore! oh merda! oh cazzo! no 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 mi venite che strisciano questi! mi venite che strisciano! in quella casa! in quella casa lì! chiude! si! si! non mi venite! si! 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 ok! ok ok! si conda che! no no no! oh cazzo vattene via, vattene via e io mi do chiudete qua, fammuc 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 chiudete vieni a caricare oh cazzo via corri corri fa un culo cazzo dove andò si, ciao non penso sia Lynn questa ma infatti no si che schifo ma che schifo è schifo no 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 che schifo che schifo che schifo che schifo madre no 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 mi stavo pure per lanciare mi ricordo voglio che la prima volta che ci giocai mi lanciai giù questa è una cosa che mi ricordo mi ricordo che io ho detto ma che cazzo devo fare qua vaffanculo dio sa ciò che ho fatto e mi obbliga a riviverlo nei momenti di ebolezza e paura non è copermine se giuda non sapevano dare nel fatto che mi diserassi tanto lo avevi salvato se fosse abbastanza forte qua la mia morta la mia morta l'intensa sono incinta il figlio di papà che è noto no 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 però io sono assofobica non mi piace questa cosa ma come neanche male basta chiedere basta chiedere non voglio che mi stiano seguendo non penso proprio salve sta in casa no 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 via via è aliasso! corre! no, senza seguimenti no eh! senza seguimenti no senza seguimenti no ohè! no ti prego vai, 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 vai via, via, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego no! ce l'ho dietro! In questo caso erano dei due contadini di Resident Evil 4 Cioè sono dei fanatici pezzi di merda Via Apri Sponda Oh cazzo No non la cura adesso Non la cura adesso Fammi scappare Fammi scappare Fammi cura Fammi cura Salve Qualcuno qui Salve No ti è ti è No 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 Stai a chiesa Devo non avere paura Stai spaventato Tu andai in paradiso Ma va a fanculo ti dici si Che cazzo Ma penso di si Cazzo di si Black No saliamo su Che qua sta la finestra aperta Però qua c'è un foglio Mettivo I figli devono temere il proprio dovere Ma i giorni I giorni Mi sono sfondato le camiglie Penso che debba fare questo No 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 Che vuoi tu No io devo andare di là Devo andare di là A per forza Secondo No non mi fai del male tu C'è gente A volte è mortita Uo manissimo Che è sta musica così Non so neanche se sta andando bene E ti ricogli No ma io c'è quella Cosa è l'entica di merda Marta Corretto Oh 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 merda No 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 Fanculo Fanculo No 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 fanculo Fanculo Super fanculo Super super fanculo Vai Vai Non c'è ancora Non c'è ancora Vai Adesso Adesso A fanculo No La cappella La cappella Sono arrivato Sono arrivato Vai Andiamo 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 Salve La porta Ma la chiave Ma la chiave non è possibile Vai giù Vai giù Vai giù La tua La mia La mia Non è un padre di nessuno, proprio... Mi ucciso! Tu devi ucciso me! Noth è tornato... con Meryl. Si può perdere lei, e io parlare. Se tu mi ucciso, non c'è motivo per perdere lei. Por favor!